io ci vado no non puoi non è carino siamo a casa del primario giusto a jackson no vai avanti divertiti la salute può non assisterti il fidanzato tradirti gli amici deluderti dottor sloan volevo solo dirle che il suo intervento di oggi col dottor shepard su quel neurinoma dell'acustico è stato straordinario mi ha ispirata vieni a bere qualcosa con me mark e la porta è aperta scusa non ce l'ho fatta prima non puoi sapere che serata ho avuto quel paziente della dissecazione ortica è andata nel resto ho dovuto riaprirlo in camera ok wow beh potrebbe essere una cosa divertente se decidiamo che lo sia ecco ecco